La ricostruzione a Montappone procede con maggiore velocità da circa un anno e mezzo. Sono diversi infatti i lavori pubblici che sono partiti, in particolare quelli riguardanti la piazza centrale, la ristrutturazione del teatro, la riqualificazione del parco giochi, ma anche interventi riguardanti il dissesto del territorio. Anche sul fronte privato si procede bene, sono pochi i progetti rimasti da presentare. A livello pubblico con PNRR abbiamo anche provveduto a sistemare alcune strade del nostro territorio periferico, stiamo cercando di mirare al centro storico con il viale Giacomo Leopardi, riqualificandolo, e tutto quello che possa riguardare le strutture che a livello pubblico, tipo muri e strade, sono ancora in crisi. Sopralluogo proprio in queste ore dell'ufficio ricostruzione in merito alla sistemazione di una scuola cittadina. Un progetto sulla scuola Collodi, sul polo scolastico, per un intervento intorno al 1.300.000 euro. Quindi anche qui dovremo essere pronti a breve per ripartire con questo progetto che ci vedrà impegnati, penso, tutto il prossimo periodo. Non hanno subito danni né il Palazzo Comunale né il Museo del Cappello, in quanto sistemati antisismicamente proprio qualche mese prima del terremoto del 2016. A Montappone inoltre ci sono tre chiese, tutte di proprietà della Curia. La chiesa di Santa Maria e San Giorgio è stata già sistemata, ora si attendono i lavori sulle altre strutture religiose. Qui alle mie spalle è Santa Maria in Castello, stiamo attendendo la finalizzazione del progetto, sperando di ripartire presto con dei lavori. Sono stati fatti dei lavori di messa in sicurezza, sia esterni che interni, e adesso stiamo aspettando che si possa intervenire.